K.O. esterno per il nuovo basket aquilano battuto 66-57 sul parquet della Carver Roma nella prima trasferta stagionale in Serie B interregionale. Padroni di casa che iniziano con Buonpiglio tirano col 60% da 2 nel primo quarto e alla sirena che segna la pausa sono avanti 14-8. Secondo parziale che vede le due squadre praticamente equivalersi con il nuovo basket aquilano che riesce a rimettersi in scia della Carver Roma. Padroni di casa che però non ci stanno e arrivano all'intervallo lungo avanti di 8 sul 33-25. Terzo parziale che vede un nuovo basket aquilano arrembante. Gli uomini di coach da Dio tirano col 50% sia da 2 che da 3 e in difesa riescono a limitare la Carver Roma tenendola a soli 13 punti segnati. Al trentesimo il tabellone recita 46-45 in favore dei capitolini. La partita è apertissima. Lo sforzo profuso nel terzo quarto non sembra far pagare Dazio al nuovo basket aquilano nella frazione conclusiva. I bianco-blu a tre minuti dalla sirena finale sono infatti avanti di un punto ma nei frangenti conclusivi della gara la Carver Roma ritrova fiducia e freddezza dall'arco riuscendo a operare l'allungo decisivo per vincere la partita. Per il nuovo basket aquilano una prova orgogliosa e tanti rimpianti. I bianco-blu proveranno a rifarsi la settimana prossima impegno ancora in trasferta stavolta sul parquet della New Fortitude Isernia.